Francesco Manca, Vice-Segretario Provinciale del Partito Democratico, venerdì a Nuro si è tenuta la Conferenza Programmatica Provinciale in vista di quella regionale che si terrà tra mazza sabato. All'incontro ha partecipato il Segretario Regionale Emanuele Cani, esponenti nazionali, regionali, provinciali e cittadini del Partito Democratico. Cosa è scatolito da questa riunione? È stata una riunione, la Conferenza Programmatica Provinciale, indetta appunto in ogni provincia in vista di quella regionale per riportare gli iscritti simpatizzanti del Partito Democratico a discutere, a discutere non sulle persone ma a discutere sui temi, sui temi dello sviluppo, sui temi in questo caso del centro Sardegna, della nostra provincia. Abbiamo fatto un'analisi partendo dai dirigenti e dagli elettori, proprio perché vogliamo ricominciare a partire dal basso, non da leader che impongono la loro visione, che ci dicono cosa pensare, ma partire da riflessioni su uno sviluppo politico, economico, sociale della nostra provincia, partendo appunto dalla provincia e dai problemi di questa provincia che non sono tutti uguali. La provincia di Nuoro è un'isola nell'isola, questo abbiamo detto, e abbiamo bisogno di risposte particolari per una situazione totalmente particolare della provincia di Nuoro. Quindi un partito che finalmente ha ripreso a discutere democraticamente con i propri iscritti, con i propri elettori, confrontandosi, scontrandosi, ma trovando delle soluzioni. Questo è il modello di politica dal basso che dobbiamo continuare a ricostruire per lo sviluppo della nostra provincia. Massimo Zedda ha dato la sua disponibilità a candidarsi alla carica di Presidente della Regione per il centro-sinistra, cosa ne pensa? Io penso che quella di Massimo Zedda sia la candidatura migliore possibile per tutto il centro-sinistra. Il Partito Democratico non vuole imporre propri nomi, il segretario regionale ha detto che parteciperemo, appunto come Partito Democratico, al tavolo del centro-sinistra, ma non convocheremo il tavolo, nel senso che il Partito Democratico si pone in un'ottica di alleanze. In quest'ottica di alleanze io penso che Massimo Zedda sia la sintesi migliore, un sindaco che ha ben governato e che ben governerà da governatore della Sardegna.